Tradizioni diverse I gnocchi mi piacciono un po' moschetti No, a me è duretti A me è moschetto Non piace niente Generazioni diverse Guardate a nonna No, non vuole Latitudini diverse Il romano che non sa fare niente Guarda che ho questi buchi che ti ha fatto E io li faccio ancora Tutte riunite a tavola per condividere la stessa passione Guarda un po' Ragazzi a tavola Il cibo Con la partecipazione di Roberta Capua Italiania tavola Una serie in prima visione assoluta Lunedì alle 20.10 su Food Network Canale 33